Partiamo da un presupposto, ci sono anche delle perdite, anche importanti tipo Nardi, Giannini e Zocco che avevano fatto bene con noi l'anno scorso. Però continuiamo sulla nostra linea che è quella di meglio inserire giovani. Una stagione in cui c'è da soffrire tanto, da sudare, da lavorare bene tutti insieme perché il campionato è estremamente competitivo. Mi sentivo pronto, sentivo che era il momento di cominciare e spero di farlo nel migliore dei modi. Sono molto contento perché sono rimasti in 14 dalla passata stagione, quindi si parte da una base solida, perché comunque il campionato era stato affrontato bene. Quindi questo sicuramente è un punto a nostro favore, i ragazzi nuovi si stanno integrando da subito, ho visto subito tanta voglia di fare, tanto entusiasmo. Quindi le basi per fare bene ci sono, poi vediamo quello che starà noi al nostro lavoro. Ciao!